E rieccoci qua cari amici bentornati in questa nuovissima puntata del Mike and Beer. Oggi come avrete visto dalla copertina si torna ad assaggiare una birra. Una birra artigianale italiana di un birrificio di Casal Maggiore, quindi della zona qua vicino anche a Colorno, anche se è in Lombardia, in provincia di Cremona, il paese di Casal Maggiore. È una birra che non ho mai assaggiato, che mi hanno regalato e quindi sono molto curioso di andare ad assaggiare. Vi faccio vedere al volo l'etichetta perché è molto suggestiva. Come avete visto richiama Alice nel paese delle meraviglie e quindi sarà interessantissimo andare ad assaggiare. Sigla e assaggiamola! E allora vi ho fatto vedere velocemente la bottiglia, ma iniziamo col dire appunto due cosine anche per quanto riguarda questa birra e il birrificio stesso. Il birrificio si chiama Mad One. È un birrificio come già detto artigianale italiano. Si trova a Casal Maggiore e oltre a produrre questa birra ne produce anche delle altre. In lista ci sono una Pilsner, una Weiss, una Marzen, che è uno stile un po' più ricercato che andremo solo ad accennare, e un Ipa. Insomma, quattro stili di birra molto interessanti e che dalle etichette che ho qua sotto, che le vedo tutte insieme, beh, devo dire che sono molto molto interessanti. Comunque, vi dicevo che lo stile Marzen è uno stile particolare. Infatti, è uno stile tedesco, antico, poco diffuso. È una bassa fermentazione, quindi una di quelle birre che, diciamo, fermenta a temperature più basse. È una cugina, se vogliamo, un po' della Lager, più o meno, anche se tendenzialmente ha un colore più scuro. E questa birra, diciamo, che è stata una delle prime anche ad essere presenti, o meglio, questo stile, ad essere presenti all'Octoberfest. Una tra le prime è stata la Spatten, che appunto produceva proprio questo stile di birra, questo stile Marzen. Il nome di questa birra, come potete anche leggere, è Mark Hare. E poi sotto, ovviamente, come già detto, c'è lo stile che è quello Marzen. Chi è Mark Hare? Che dà anche il nome, spero tra l'altro di pronunciarlo giusto, che dà il nome anche a questa birra. Non è altro che il nome originale, nella favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, della Lepre Marzolina. Quella Lepre che fa il suo esordio nella scena dove Alice beve il tè con il cappellaio matto, appunto la Lepre Marzolina e altri personaggi. Personaggio molto strano, molto ambiguo, e quindi sarà interessante anche capire come questa birra sia collegata a questo personaggio, no? Andiamo ad aprire la bottiglia a versare e godiamocela. Beh, che dire, amici? È molto, molto interessante. Come vedete, ha una bella schiuma fine, beige come colore, un bel colore ambrato. E devo dire che, appunto, anche questa schiuma è molto, molto bellina. Il profumo, cari amici, il profumo cos'è? Dal profumo promette bene. Potrebbe essere una delle mie birre preferite, già lo riconosco dal profumo. Molto, molto buono. E perché vi dico che è più o meno una cugina dello stile Lager? Perché gli odori ricordano quello, appunto, di una Lager. Sentiamo un buon sapore di panificato, di cereali. Però c'è quella nota in più che, appunto, la contraddistingue dalle Lager, oltre al colore. Che, come potete immaginare, deriva dalla tostatura dei grani che avviene in modo diverso, dei malti. È il fatto che si senta un odore, comunque un profumo, un po' più tostato, di tostato e anche di caramello. E quindi, già qui, sentiamo le differenze con, appunto, quella che può essere una Lager classica. Dove, invece, è proprio... Si sente benissimo il profumo di panificato vero e proprio, senza altre deviazioni di sapore. E un gusto di cereali veramente intensissimo, di fomento proprio. Il profumo promette bene. Andiamola ad assaggiare, perché sono veramente curiosissimo. Beh, amici, che dire, questa è veramente una birra buonissima. E anche qui riconfermo il fatto che questo stile sia un po' una cugina... Lo stile è un cugino alla lontana dello stile Lager. Perché un po' riprende quei sapori, aggiungendoci qualche nota in più. Che, come già detto, è dovuto alla tostatura diversa dei malti. Che danno un sapore un po' più di tostato, di panificato un po' più bruciacchiato, se vogliamo. Non bruciacchiato, però più di crosta, ecco. Diciamo così, sì. Quei pani con un bel crostone, ecco. Il sapore ricorda molto. È presente anche il gusto di nocciola, se vogliamo. Qualcosina che ricorda forse anche un po' le noci, quelle buone, quelle un po' mature, quelle proprio mangiate al punto giusto. E anche un po' di uva passa, soprattutto sul finale. Quello sì. Poi dopo in bocca, in verità, dopo aver mandato giù, rilascia un buon gusto anche qui di, appunto, pane tostato, bello croccante. Di crosta di pane, bella sbruciacchiata. È una birra super equilibrata, ha anche la frizzantezza ed è super, super beverina. Vi voglio far notare il fatto che, ovviamente, se lo trovo, ha un grado alcolico del 5.5% e che, quindi, comunque è una birra che inizia ad essere già un po' più pesantuccia. Infatti, anche rispetto alle lager, questo stile ha un grado alcolico leggermente più elevato, che arriva anche ai 6.3% di volume alcolico. È una birra molto buona, da bere sicuramente con dei taglieri di formaggio, di carni rosse anche un po' al sangue e, perché no, per azzardo anche con un po' di cioccolato fondente. Ci starebbe, secondo me, bene. Comunque, è una birra anche, tutto sommato, beverina, quindi anche, per esempio, per un aperitivo, secondo me, ci sta bene, ci sta bene. È bella beverina, va giù bene, non è troppo frizzante, non stanca e, come già detto, lascia la bocca anche bella morbida e abbastanza bagnata, non l'asciuga più di tanto. Quindi, devo dire che è bella, bella, bella bilanciata. Vi faccio vedere anche di nuovo l'etichetta perché è veramente pazzesca. Birrificio Mad One, birra Mark Hare, che appunto è la lepre marzolina di Alice nel Paese delle Meraviglie e, come vedete, anche l'etichetta è proprio in stile Alice nel Paese delle Meraviglie. Beh, che dire, molto buona, ve la consiglio, la trovate sul loro sito, se cercate Mad One, Mad One, Casal Maggiore, trovate il loro sito dove è spiegato anche tutta la storia di questo stile Marzen. Per questo Mike & Beer è tutto, siamo tornati con una nuova recensione di una birra, molto buona, sono super contento. Poi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo stile di birra, se lo conoscevate, se non lo conoscevate, se vi farebbe piacere magari un video in cui vi spiego anche questo stile di birra, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, schiacciate sulla campanellina per non perdervi neanche un nostro video e mi raccomando, lasciateci anche un bel mi piace. Noi ci risentiamo venerdì prossimo con una nuova puntata del Mike & Beer. Ciao a tutti!